Ciao a tutti, sono Nike U Ho realizzato un video per coloro che studiano il giapponese e che hanno difficoltà a scrivere i caratteri in giapponese Per ogni carattere giapponese, sia per hiragana, katakana che kanji, c'è un ordine di scrittura, si chiama kakijun Oggi andiamo a vedere l'ordine di scrittura per ogni carattere di hiragana Spero così di aiutare chi è in difficoltà Ciao a tutti 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 Ciao a tutti